Il servizio è da qui come grande scelta, è una grande differenza, è una differenza che però tutta una cosa viene soltanto per il tempo e che parte da tutti i segni che deve essere qui. E' un quarto punto che riguarda l'energia delle politiche italiane, ma anche la conclusione signor Presidente di Sina. Il dibattito delle mozioni azzuccare sul campo pressante, la questione di quale politica industriale bene per il mezzogiorno.